Parlare di gara decisiva quando siamo appena alla quinta giornata di campionato è probabilmente un'esagerazione, ma definirla fondamentale. La sfida di domani può tuttavia essere appropriato. Si gioca comunque tanto il Foggia domani sera nel primo vero test probante di questo avvio di campionato, caratterizzato da alti e bassi per la squadra di Boscaglia. Allo Zaccheria arriva il Pescara. Da queste parti la sfida è sentitissima, paragonabile ad un derby per l'accesa rivalità esistente tra le due tifoserie. Boscaglia tira un sospiro di sollievo. Dall'infermeria arrivano buone notizie, tranne Rizzo. Sono tutti a disposizione del tecnico. Anche Peterman e Oger figurano tra i disponibili. Dovrebbero partire entrambi dal primo minuto in una mediana che dovrebbe essere completata da Schenetti, con Tridente affidato a Peralta, Vutai e Dursi. Quest'ultimo, peraltro, che ha un fresco passato proprio con gli abruzzesi. Spazio dunque alle certezze, all'esperienza e alla qualità per provare a svoltare, perché una notte come quella di domani può davvero indirizzare in un verso o nell'altro la stagione. Un successo consentirebbe al Foggia di fare il pieno di autostima e di lanciare un messaggio chiaro alle dirette concorrenti, come a dire. Occhio perché ci siamo anche noi. Il tecnico rosso-nero stamane ha fatto il punto nella conferenza stampa della vigilia. Ha sbottato pretendendo tempo per una squadra nuova di Zecca, ma si è detto comunque fiducioso. D'altronde, chi meglio di lui sa quello che il suo gruppo può esprimere. Le idee le ho avute sempre chiare sulla squadra. La squadra ha bisogno di lavorare, ha bisogno di tempo. Se avete pazienza, ok, altrimenti io non ci posso fare niente. Io le idee ce le ho chiarissime. I giocatori ancora hanno problemi tra di loro, si conoscono poco perché devono giocare. 18 giocatori diversi l'uno dall'altro, 10 undicesimi diversi dall'anno scorso. Chiaro? Non posso ritornare sempre con questa cosa. Io le idee ce le ho chiare, 54 anni, faccio questo mestiere da tanto. Le idee ce le ho chiarissime. Però il calcio dovete capire e sapere, e lo sapete molto meglio di me, che ci sono anche gli avversari che giocano, che ci mettono in difficoltà, che corrono, che sono organizzate, che sono ben allenate, che sono attrezzate. Non è che non andiamo in campo e facciamo 10 contro zero. Non lo facciamo. Noi siamo una squadra che ha bisogno di giocare e per giocare bene ha bisogno di tempo. Il problema è che noi siamo partiti non bene e magari uno si aspettava qualcosa di diverso, anche noi, e magari qualcuno si va a prendere la paura. Noi dobbiamo avere coraggio, non paura. Il nostro campionato è già iniziato. Abbiamo fatto 4 punti in 2 partite, nonostante il fatto che a potenza abbiamo fatto degli errori. La partita si poteva vincere, si poteva anche perdere. Quindi chiedo alla squadra che quando vediamo che non si può vincere non si deve perdere. Noi, ripeto, indipendentemente dall'avversario, che sia il Pescara o meno, la vittoria è sempre importante. Quindi il fatto che si possa battere più o meno il Pescara a noi ce ne frega poco, nel senso che noi dobbiamo vincere, dobbiamo vincere le partite. Naturalmente la vittoria aiuta, aiuta tantissimo, aiuta a livello morale, aiuta a passare settimane tra virgolette un po' più serene, ma noi, ripeto, da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Io oggi sono molto fiducioso, ma sono veramente molto fiducioso, perché la squadra è una squadra che segue, che è molto attenta, ma non è facile però interpretare tutto quello che naturalmente facciamo in lamento, interpretarlo bene durante la partita, perché ci sono gli avversari, perché ci sono gli avversari. Faccio sempre l'esempio della scuola, no? Quando tu vai a scuola e sei interrogato, se tu sei preparato e hai studiato quello che dovevi studiare, nessuno ti può dire niente, perché il professore ti può interrogare solo su quello che è il programma. Se tu conosci il programma, lì prendi 8, prendi 9, prendi 10, se tu non lo conosci niente. Qui non è così, perché nonostante tu studi, studi il programma, prepari la partita benissimo, dall'altra parte ci sono 11-16 giocatori che sono lì per scompigliare tutto quello che tu hai preparato.